Camerino è un comune della provincia di Macerata, nelle Marche, i cui abitanti sono detti Camerti. È noto soprattutto per la presenza dell'università fondata in età medievale. La cittadina di Camerino è situata tra le valli del Chienti e del Potenza, in una suggestiva posizione su di un colle al centro della zona montana della provincia di Macerata, chiusa a sud dal massiccio dei Monti Sibillini. Il territorio è caratterizzato per la maggior parte da un paesaggio collinare, con una gradevole alternanza di campi coltivati, piccoli boschi e querce secolari. La vecchia città, il centro storico accresciuto nei borghi, vive di toni sommessi e caldi. La pietra si alterna al cotto, all'intonico rosato, ocra e arancio. La compattezza, il colore, la grana dell'arenaria variano, dalla pietra rosa alla pietra rossastra, dalla pietra biancastra alla pietra calcarea argillosa. L'uso frequente dei laterizi risolve in gioco di equilibrio arenaria mattone tutta l'edizia camerte. Gli agenti atmosferici scavano in continuazione, pertanto l'intonico si impone come salvaguardia e decorazione. Spessissimo gli edifici presentano portali, zoccolo, capitelli, cornici di porte del morto, maschironi o solo brani intatti di muro. Così la città conserva toni medi che fondono in ogni stagione con equilibri diversi all'ambiente che la circonda, dove architettura e natura prendono vita e fisionomia. Camerino trae dalla stretta interdipendenza, tra la compattezza muraria tipica del suo nucleo urbano e l'aspra collina, il senso di compiutezza tipico delle creature nate per un luogo, cresciute nell'attività e nella cultura plurisecolare di abitanti attenti e misurati, radicati nella propria città, vogliosi di difendere a sé i propri valori. Il volto di Camerino ha il sapore delle cose amorosamente vissute, quindi. A nord congiunge la città allo spalto e al declivo collinare una fascia di pini. Nella circonvallazione di Levante è stato disarmonizzato il rapporto Natura Architettura, invece, prima vissuto nelle piante dell'orto botanico, con un lungo filone di alte abitazioni moderne. A chi viene da Muccia, alta sulla rupe, la città si stringe a castello. A chi la segue a ovest e nord, la linea curva si spezza, si allunga, sempre più placidamente avvinghiando i movimenti lenti della collina. Compatte, le mura castellane nascono dal profondo. Le abitazioni aprono poche file di finestre, rettangoli uguali d'ombra sul rosa del mattone, contro il verde dei pini e l'azzurro del cielo. Fino a San Venanzetto, dove le mura del castello si attenuano e nascono i borghi. A chi viene da San Luca, l'antica città, dalla rocca borgiesca a San Venanzetto, appena deturpata da poche costruzioni interne eterogenee, si allunga nella luce smorsata fino a San Venanzio. I borghi si fanno veramente città a chi viene da Torre di Beregna, adagiati a Conca, dall'alto versitice del Duomo a Col di Bove, dalle mosse fino all'orto botanico. La cinta muraria abbracciò i borghi nel 1384. La via esterna per le mosse, ripresa dall'ex ferrovia del tram, corre sui resti delle recinzioni, la porta Sancti Framus, ora chiamata Arco di Vannucci, ne testimonia la potenza. Ma a chi viene da lontano appaiono solo le costruzioni rosa, alte nel vertice, e le case basse, quasi cinere, della Conca. Nei monti circostanti Camerino hanno lasciato tracce popolazioni dei tempi più remoti della preistoria. Presso la zona di Torre Beregna e nelle grotte di Monte Primo sono stati rinvenuti utensi di pietra più o meno elaborati, frammenti di terracotta, cocci di grossolane e stoviglie fatte a mano. I Cameriti, anzi i Camerti, erano una tribù umbra che valicò l'Appennino e nell'incontro con questa terra e con gli abitanti già esistenti presero l'identità di un piccolo popolo, gli Umbri Camerti. Secondo una leggenda, i Camerti avevano abbandonato la loro città, Natia, Camars, perché vinti in guerra dal popolo dei Pelasgi. Proprio per questo, onde ricordare la loro patria, diedero il nome di Cameria o Camerta alla nuova città da loro fondata, nome da cui poi sarebbe derivato il termine Camerino. I Camerti e i Romani strincero un trattato di alleanza con uguali condizioni, Lecum Fedus del 309 a.C. Lo stesso privilegio della cittadinanza romana, confermata da Gaio Mario nel 101 a.C. e da Settimio Severo nel 210, garantì quindi ancora la grande importanza della città Camerte nel 200. alla fine del 300 i Camerti erano ritenuti forti guerrieri e ricercati come alleati. Sappiamo con certezza che durante la seconda guerra punica i Camerti fornirono a Roma 600 combattenti e durante l'impero finalmente Camerino ebbe pace e benessere. Numerosi documenti del fitto rapporto con Roma si ritrovano nella letteratura repubblicana e imperiale e inoltre sono venuti alla luce durante i lavori di restauro del teatro comunale i resti di quello che era un mercato d'epoca romana. Anche a Camerino il cristianesimo si diffuse gradualmente e sembra che i primi apostoli siano penetrati a Camerino dall'Umbria attraverso la via Flaminia. Non sembra che Camerino abbia risentito direttamente i gravi effetti delle invasioni barbariche sebbene la tradizione ci parli di un assedio dei goti contro Camerino. Secondo una leggenda fu proprio un sale il santo patrono Venanzio a impedire che Camerino fosse presa apparendo sopra le mura e combattendo a fianco dei camerinesi. Sconfitti i goti nel 552 la città appartenne ai bizantini fino al 592. Anche i Longobardi vennero dall'Umbria a Camerino fu dal 601 sede di Marchesato e di Ducato dall'ora incorporato dall'ora disgiunto da quello di Spoleto. Di origine Longobarda doveva essere Sant'Ansovino il più notevole vescovo dell'epoca nato proprio a Camerino alla fine del Settecento. Gli storici affermano infatti che il nome Ansovino è Longobardo e derivi da Hans che vuol dire Dio e Win che vuol dire amico perciò Ansovino significa amico di Dio fu eletto vescovo di Camerino e morì nel 1868 colto da malore mentre visitava la diocesi in tutto il suo ministero pastorale egli si dimostrò vero padre dei poveri e degli afflitti ed è considerato un patrono della città nel settecento e ottocento la diocesi Camerte era una delle più grandi del centro Italia e gli furono assegnati i territori delle diocesi scomparse il territorio dell'attuale Fabriano e molto territorio di Macerata grande importanza religiosa ed economica determinò la penetrazione monastica anche se forse lo stato di arretratezza culturale dei Longobardi ritardò il sorgere nella zona delle grandi abbazie rispetto alla vicina Umbria dopo una lunga stagione di eremitaggi a cominciare dall'ottocento sorsero così i consistenti complessi monastici in diocesi come ad esempio San Lorenzo di Doliolo vicino all'antica Settempeda l'attuale San Severino Marche o Santa Maria di Rambona nei pressi di Pollenza di fatto la quasi totalità degli edifici sacri attestano ancora l'alto livello tecnico e artistico cui si era pervenuti è probabile che verso il 1050 il Marchese Bonifacio occupasse la città di Camerino per poi passarla alla figlia Contessa Matilde la quale la donò poi a sua volta alla chiesa nel 1077 già nel 1000 Camerino fu un comune fiorente e indipendente si ebbero infatti monete raffiguranti San Venanzio e Sant'Ansovino inizialmente Ghibellino divenne inseguito Roccaforte Guelfa e sede della legislazione pontificia nel 1240 per cui nel 1259 subì la distruzione da parte delle truppe imperiali di Manfredi condotte da Percivalle Doria gran parte della popolazione fu uccisa e ce l'ho fatta per alcune persone che si salvarono fuggendo da un buco nelle mura che conduceva fuori di Camerino che oggi si chiama via Morrotto Manfredi si portò via anche la cassettina d'argento contenente le reliquie di San Venanzio che poi fu recuperata furono poi i Davarano a far fiorire la città attorno al 1262 i fuoriusciti rientrarono e a capo si posero alcuni signori tra cui Gentile I Davarano a difesa del territorio Camerino fu costruita da Giovanni Davarano nel 1382 una barriera lunga 12 chilometri di torri fossi e sbarramenti con grossi tronchi tagliati per cui la linea prese il nome di intagliata la famiglia dei Davarano con alterne vicende resse le sorti della città per circa 300 anni da ricordare la rocca Davarano particolarmente adatta come Dazio Doganale per esercitare un dominio molto proficuo per il pagamento delle tasse e per le estorsioni che i signori potevano imporre ai mercanti viaggiatori Giulio Cesare Davarano fece edificare attorno all'anno 1460 il Palazzo Ducale che a quei tempi era reputato uno dei più sontuosi d'Italia fondò inoltre il monastero di Santa Chiara dove timorò sua figlia Camilla Battista Davarano ossia la Santa Battista nel 1502 piombò su Camerino Cesare Borgia detto Duca Valentino che fece piazza pulita dei Davarano sui quali riuscì letteralmente a mettere le mani e poi uccise Giulio Cesare con tre dei suoi figli i Borgia nel 1503 costruirono la Rocca dei Borgia i cui torrioni cilindrici e il possente Mastio furono esempi di architettura militare rinascimentale e servirono per controllare la città sul versante sud-ovest e successivamente tornati al governo della città i Davarano la completarono la misero in comunicazione con il Palazzo Ducale e l'armarono con 42 bocche da fuoco in seguito divenne Lazzaretto poi fu parzialmente smantellata per usarne le pietre sempre nel 1503 un superstite dei Davarano Giovanni Maria terzo genito di Giulio Cesare scampato all'Ecidio del Valentino ritornò in città e governò il Ducato fino al 1527 durante la signoria dei Davarano Camerino raggiunse una ragguardevole prosperità economica e un notevole incremento demografico congiunti a una trasformazione urbanistica che in parte modificarono l'impianto medievale la città era circondata da mura che sorgevano a picco sopra le rocce molto particolarizzate e rigorose erano le norme fissate dagli statuti per la difesa per l'igiene e i servizi pubblici le vie tutte mattonate dovevano essere pulite ogni sabato dai cittadini nel tratto adiacente alla propria abitazione la città era divisa in tre terzieri come tuttora si vedono nello stemma stilizzati nelle tre casette 60 di mezzo e mur alto il primo si estendeva dal duomo al borgo san venanzio il secondo abbracciava il centro il terzo comprendeva la parte sud e l'estremità ovest ogni terziere e ogni villaggio dovevano provvedere quindi alla manutenzione delle strade le vie interne non dovevano essere ingombre di banchi per la vendita che era permessa solo entro i limiti della casa e dello spazio adiacente i luoghi di vendita per la maggior parte delle merci erano le piazze di san venanzio e sant'angelo il mercato del bestiame si svolgeva invece nel mercatale al di fuori della cerchia muraria particolarmente curata era l'erogazione dell'acqua le fonti infatti dovevano essere pulite le condutture coperte ed era severamente proibito deviare le acque durante la signoria nella città e nella diocesi si sviluppò notevolmente la spiritualità religiosa espressa soprattutto dal movimento francescano si moltiplicarono chiese e conventi nel territorio camerinese e tale sviluppo favorì la nascita dei cappuccini dal 1545 la città passò sotto il diretto dominio pontificio e divenne capoluogo di delegazione apostolica iniziando così una lunga fase di stabilità politico sociale ma anche di silenzioso declino i vescovi negli ultimi decenni del 500 eressero il loro palazzo di fronte a quello ducale per ordine del pontefice la città fu spesso impegnata in dispendiosi ricevimenti per festeggiare personalità di passaggio la storia del 1600 si articolò con la molteplicità di statuti particolari e lo stato fu suddiviso in più di cento comunità rette da tre vicariati nel 1700 la piccola capitale di una gloriosa signoria fu ridotta a un grosso borgo agricolo con economia limitata e qualche industria nel territorio che restava comunque ampio una delle risorse maggiori era rappresentata dai buoni allevamenti di bestiame pertanto elevato era il numero delle fiere le quali con le franchigie concesse davano impulso ai commerci durante l'occupazione francese Camerino quale municipio fu aggregata al dipartimento del Tronto nel 1799 alla reazione degli insorgenti la città fu al centro di varie lotte con alterne vicende finché il 28 luglio 1799 fu sconvolta da un grave terremoto che distrusse il Duomo San Venanzio varie case e provocò una sessantina di morti poi un secondo periodo francese si distinse per la razza del denaro la soppressione degli istituti religiosi per la confisca dei beni la rapina delle opere d'arte tra cui quattro tavole che Carlo Crivelli aveva dipinto per la città l'invasione austriaca che seguì il governo napoleonico desolò ancor più il camerinese il ritorno dello stato pontificio fu accolto pertanto con sincero entusiasmo esso diede a Camerino un periodo di tranquillità e ordine ma non riuscì a risollevare la città dalla sua decadenza alla quale seguì anche una carestia dal 1816 al 1817 il malcontento preparò così il terreno alle associazioni segrete e a quei movimenti liberali che distingueranno Camerino durante le guerre di indipendenza speranze fervore manifestazioni cittadine partecipazione alle lotte nazionali distinsero la cittadinanza in tutto il risorgimento nel 1849 Camerino ebbe un governo provvisorio poi il vecchio mondo venne meno con l'annessione della città al regno d'Italia espressa con un plebiscito del 4 e 5 novembre 1860 tuttavia i camerinesi mostrarono di essere in pieno coscienti del loro massimo istituto culturale l'università nata nel medioevo e si impegnarono a fondo e con intelligenza per la salvezza e il potenziamento dell'antico Ateneo fu così che Camerino pur nella sua decadenza economica mantenne sempre un alto profilo culturale il 1800 fu poi contraddistinto dalla presenza di un gran numero di personalità pittori politici giornalisti e musicisti di un buon livello e si sviluppò anche la stampa periodica consistente attività ebbe il consorzio agrario ma anche assai notevoli furono le iniziative teatrali musicali e di vario spettacolo nel 1844 fu fondata a Camerino la Cassa di Risparmio la prima della provincia mentre il primo acquedotto comunale risale al 1855 e nel 1856 ci fu anche la ricostruzione del teatro La Fenice nella prima guerra mondiale trovarono la morte ben 260 cittadini fatto di notevole rilievo fu la fondazione l'11 aprile 1919 di uno dei primi fasci nazionali il fascio di combattimento di Camerino che trovò soprattutto nell'ambiente letterario in particolar modo studentesco i suoi aderenti il ventennio fascista non diede alcuno sviluppo alla città anzi addirittura per le notevoli difficoltà economiche la libera università perse nel 1927 la facoltà di medicina durante la seconda guerra mondiale Camerino diede un contributo alla lotta di liberazione con il sacrificio di 84 persone e i momenti più drammatici si ebbero nella primavera del 1944 e culminarono con gli eccidi dove 81 furono le vittime e Grazie.